buongiorno buongiorno dal dottor claudio sarascino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscola il titolo di questo episodio ragazzi è perdere la testa come si può fare per non perdere la testa ogni volta che c'è un confronto di opinioni ogni volta che ci si confronta con il proprio partner con i propri figli con i propri genitori con i propri colleghi con i propri amici come si fa ad ascoltare senza perdere la testa quando qualcuno ci dice qualcosa che a noi non piace a livello subcosciente che ci urta che ci dà fastidio cosa si può fare utilizzare l'ipnosi di cs vera e professionale eliminare quell'immagine o quel programma inconscio come dice qualche guru che alberga nel tuo subcosciente anche con un solo audio mp3 di cs come ad esempio non stress molto controllo dei nervi non passato negativo eccetera eccetera audio dcs molto potenti e naturali senza nessun effetto collaterale che tu trovi sul sito internet della mia associazione ipnosi associati di los angeles beverly hills che cosa succede praticamente succede che se tu da piccolino da piccolina hai visto i tuoi genitori litigare per sciocchezze oppure perdere la testa per nulla perché magari la mamma o il papà o chi per loro non i zii dicevano qualcosa che non veniva accettata neanche il livello di opinione di giudizio bene litigando offendendo oppure umiliando provocando così tu se sei stata se hai recepito questa suggestione questo gesto questa immagine che alberga nel tuo subcosciente così tu puoi portarlo fino alla tua morte ecco perché tu oggi d'adulto d'adulta perdi la testa per nulla anche in uno scambio di opinioni tipo che pensi se posso cambiare questo orologio e l'altro magari ti risponde no io non sono d'accordo lì perdi la pazienza perdi la testa e rispondi malissimo come fare per trasformarsi per cambiare devi educare il tuo subcosciente il tuo piloto automatico quello che c'è qua dentro è la chiave del tuo subcosciente l'ipnosi di cs vera professionale unico metodo di cs al mondo che ti può veramente cambiare la vita senza se e senza ma ecco perché molta gente oggi ragazzi non accetta il confronto si abbaglia si parla abbagliando ma non c'è mai un confronto serio il rispetto delle opinioni perché da piccolini qualcuno nella tua famiglia nelle tue radici nel tuo passato ragionava in questi termini ed ecco perché tu oggi perdi la testa per nulla per un non nulla cambia la tua vita con l'ipnosi di cs vera professionale prima che sia troppo tardi perché litigare non fa bene perché stressarsi non fa bene può causare anche malattia infelicità povertà chi più ne ha più ne metta fammi tutte le domande del caso come al solito non credere a nessuna parola del sottoscritto devi soltanto fare fare azione e giudicare sui fatti ok visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cs dottor claudio saracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cs dottor claudio saracino un bacio un abbraccio e credi in te stesso ciao